Il 16 di novembre del 1944 è venuto il rastallamento, ne è venuto prima, ma adesso finisco questo. Nel rastallamento, al mattino alle 6, se ne accorgono che su la montagna c'erano i San Marchi. Allora quello lì che andava a prendere il caffè, non ha fatto nessuna reazione, è andato dalla cucina e ci dice siamo circondati dai San Marchi. Allora lì era ancora notte e si sono messi tutti da colo e sono scappati, sono scappati giù per andare verso Giuswala. A Casarino, Drin, nome di battaglia, ci viene in mente che ha lasciato il quaderno con tutti i nomi, perché una sera è arrivato la suddice, bisogna che mi date i dati propri veri, come ti chiami, dove abiti e tutto, perché forse sembra che la guerra stia finendo. È ritornato indietro, come ha preso il quaderno, l'ha cominciato a strappare, è arrivato ai San Marchi, ci ha andato, voleva sapere il tenente cosa c'era scritto, lui non ha parlato, ci ha dato due colpi, di rivoltarla qua e 17 pugnalate nella schiena, è caduto con la faccia intera diciamo, ci hanno preso le scarpe, avevo un bel paio di scarpe, mi ricordo, è un fasoletto rosso al colo e la beretta, ci hanno preso quella, l'ha lasciato lì, c'è stata una settimana, io quella mattina lì, con un olio in alto di albisola marina, portavamo giù le fascine, la legna per fare il pane e c'era una famiglia, da lei da due, una brava donna, passevamo da lì, ci diceva, se avete fame, se avete bisogno, vi fermate, allora siamo arrivati lì, eravamo tutti bagnati, io leggo il cavallo, là vicino a un albero e dentro c'era già un bergamasco che faceva carbone, un vecchio lì, faceva carbone, ci dico, fa freddo eh Bergamo, gli dice, si di Yucan, di Yucan fa freddo morire, e mi siedo, aveva acceso già la stufa, mi siedo lì, come te, prendo le calze, me le levo le scarpe, le metto così, per farmi asciugare, poi lì ti vedo due san marchi e quindi là dal bosco, ci dico, c'è la Repubblica, mi fa, Dio Yucan scappa, come sono uscito sulla porta, ma aveva già puntato il mitra, il stec, mano in alto, mano in alto, mi prende per il braccio e mi dice, dove sono gli altri due? E io non ho parlato, mi ha preso per il braccio e mi ha portato così dietro la casa che lì c'era il fianile, quella signora lì ci diceva, se volete mettere qualche cosa là ve lo nascondete la nel fieno, nessuno tocca niente, sto San Marco sale su, no? Sale su dalla scalinata e su c'era già Noli là che si legava le scarpe, ci ho detto Noli è finita, sai così parlando, no? E sto San Marco va su, l'altro si è fermato nella cucina, come ho visto che entra dentro, io cosa ho fatto? Mi sono tirato giù, mi sono tirato giù le braghe e col culo scoperto sono andato lì vicino a un cascinotto che ci mettevano le foglie di secche per mettere sotto le bestie, sai? Quando sono arrivato là ho visto che non ancora ero uscito mi sono buttato giù nelle castagne e giù, sono arrivato sulla strada da carro, c'è il cimitero mi sono buttato dentro al cimitero, sono stato lì non so quarto d'ora, mezz'ora, poi Berlino dico se mi hanno visto entrare qua mi prendono subito, data bene che dalla parte sopra al cimitero c'è il muro che ci facevano dei lavori, qualche tomba non so, sono riuscito a rampinarmi su e scendere giù nel bosco, per capire andare su ci sono stati 300 metri, tutto con la pancia in terra perché d'inverno così foglie non ce n'è più delle castagne, quando sono arrivato sulla collina mi è arrivata la raffica, ho fatto così a vedere se l'ho presa, non mi ha preso, mi è caduta la beretta ce l'ho lasciata, allora ho fatto ancora 10-20 metri e lì c'era un solco che sarà basso un metro, era tutto perché una volta ci veniva l'acqua da Giuswalla avveniva alla feriera, però dopo quegli anni sai, non è più servita, era tutto pieno di foglie, io cosa ho fatto, mi sono buttato lì dentro, ho messo due rabe che potesse vedere un po' e mi sono messo lì, quando il sole ho visto che andava via, bisogna che prenda una decisione e ogni tanto sentivo qualche raffica, sai? dicevo, sai ti pensi subito ai tuoi amici e tutto, prendo una foglia, dico se avviene a un modo vado al campo, se avviene all'altro modo vado da mia nonna Ancorona, c'era attraversata tutte quelle montagne, le conoscevo io e vado da mia nonna, sta foglia si gira che vado al campo, eh Belin decidi, vado al campo, comincio a attraversare tutti quei brichi e arriva in Ascheux, quando arrivo lì finisce il bosco, c'è una casa lì su da destra e poi c'è i campi, là c'è altre due case grosse con degli alberi così sai, madonna! lì c'era i tedeschi, c'era i tedeschi che legavano le corde da un albero all'altro, sai, per legarci i cavalli, allora ho pensato, ho detto qua, non vanno via, ci stanno anche domani e sono andato indietro, sono andato indietro, ho fatto tutta quella strada lì, con i boschi, ho preso la pinetta di Puntinvrea, che è così sai, sono tutti pini e sono arrivato sulla collina, sono andato giù, sono arrivato alla bassa da mia nonna e sono andato alle 11, mia nonna abitava in una casa sopra Corona, sai, ma di Corona andare dalla casa mia nonna ci volevo un'ora vado lì, i cani non abbaiono, perché ci stava mia nonna di qua e i suoi nipoti di là, vecchi sai, erano già ma lì i cani non abbaiono, come mai? Ho visto che c'è il chiaro in cucina, ci ho buzzato un po' ma sono scappato subito dietro la casa del bosco poi non vedo nessuno, tiro delle pietre, i cani non abbaiono, ma com'è? Sto un po' lì, vado di nuovo giù, c'è sempre il chiaro nella cucina mia nonna, ci batte e vedo che esce, vedo che esce, esce fuori, ciò no no, e come mai che se è successo così e così? Mi dice, va che soffiava la stufa, perché da le nostre parti non lo so, quando soffia la stufa dice che arriva qualche duro a Ponte Invrea è stato un paese che i partigiani erano sempre aiutati, sempre, il grano lo portavano loro a macinare e poi la farina la portavano loro lì a Montenotte, perché noi non potevamo andare là, allora viene su uno di Ponte Invrea dice, il comune lì ha preparato tutte le tessere ad andare ai contadini che ci portano il grano cosa abbiamo fatto? Alfredo dice a Basino, andate giù in comune e bruciate tutto e siamo partiti, eravamo un 5, eravamo un 5, andiamo giù, abbiamo portato una mucca con il carro dice, se c'è delle corde, dei palle, picchi, dei taloni, sai taloni noi per fare la barraga e l'abbiamo portato, l'abbiamo legato lì al cimitero a Ponte Invrea andiamo giù, andiamo al comune e facciamo orasia di tutto, ha portato via tutto con delle sieste tutti i documenti, va a sapere se c'era scritto, ha portato la dieta al comune e abbiamo dato fuoco Alfredo Basino ci dice, però se volete andare a prendere qualche cosa lì nel bar, andate ma state attenti che c'è 3 km, i giovani ci sono loro, i tedeschi, i san marchi, va bene andiamo lì nel bar, abbiamo preso, non so, un bicchiere, cosa abbiamo preso, eravamo un 5 a mezzanotte precise partiamo tutti insieme, quando andiamo dal cimitero, beh lì 3 non arrivano mai e beh lì cosa è successo, li avevano presi, abbiamo aspettato un'oretta poi noi siamo andati e abbiamo detto magari arriveranno, sai cosa hanno fatto questi qua? sono andati in una famiglia lì tra Ponte Invrea per andare giù a Miolia, c'è una villetta lì che c'era due sorelle, una aveva due figli e l'altra una bella donna, una bella figa sai, erano di Genova, quella lì, quei bambini, suo marito era andato in Russia, vanno lì e ci chiedono da bere, non so, lì sapevano già qualche cosa, comunque come facevano, vanno lì, sai cosa hanno fatto, hanno preso la donna con i due figli, l'hanno fatta andare nella camera, l'altra l'ha fatta spogliare nuda e se l'hanno chiamata tutte e tre, a mezzogiorno eravamo su a prendere il rancho a mezzogiorno, arrivano due di Ponte Invrea e dice, beh lì freddo alla sera ci dice, tutte e cinque laggiù, quando siamo arrivati, c'è una scala con cinque o sei scalini, siamo andati lì con la canchiavato, puoi capire, ci ha preso nella faccia, ci ha detto questo è stato il primo che è venuto e poi gli altri due e poi più hanno voluto tutti gli ori che avevano, e lì con i Ponte Invrea dice, bel lavoro, allora cosa abbiamo fatto? Stati su, abbiamo fatto il processo, fatto il processo e questo qua della ferrovia che era il più dritto, dopo due sere mi dice Alfredo, con altri due miei amici, andate giù, c'è Cunio, che ci avevano ammazzato due fratelli al santuario, lì al santuario ci ha bindato gli occhi, lui ci spara, infatti siamo arrivati laggiù, ci ha sparato e è caduto lì a terra e ci ha lasciato lì, poi sono andato all'Avignolo e ci ho detto c'è mica un pezzo di cartone, lamiera con un po' di pittura, perché? Perché poi domani lo saprai, non ci ho detto il perché, no? E ci ho scritto, a tutti i partigiani che non fanno il suo dovere sarà fatta questa fine, ce l'ho messo sulla schiena e ce ne siamo andati. E gli altri due poi va bene. Ma su che se facevi qualche cosa partivi eh? Ma questo qua ce ne aveva già sulla schiena due, una volta ai pori una sera su una pattuglia là e si è messa a piovere e c'è una casa lì dei contadini e sono andati lì ambusciato e ci ha aperto questo uomo, c'era la moglie con due figli e sto qua bravo, un bravo uomo e io lo sono andato una sera e poi sono andato io che l'ho scoperto tutto. Va lì e ci ha da mangiare, ci ha messo il vino, quando va via l'ha lasciate andare a dormire perché lui ci ha detto il padre, adesso è l'ora che andate perché io domani mattina c'ho le bestie da curare, se volete dormire nella stalla dormite nella stalla, no no no, andiamo sulla strada. Vanno via, quando hanno visto che sono andate via sono andate indietro e ci hanno portato via tutta la roba che c'era stesa. quelle calze di lana che facevano con la lana di pecore, mali e tutto, ci hanno portato via tutto. Una sera mi tocca a me con le altre, vado là e si mette a piovere, andiamo giù e il padrone ci ha detto, si si venite, però non voglio mica che fate quello che mi hanno fatto i vostri amici, perché cosa hanno fatto? E' così e' così, ma ti ricordi che ce n'era uno grande che aveva una barretta in testa. Vado su e ci dico Alfredo, guarda che è successo così e così e così, allora vabbè. Allora 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 Allora